Oggi presentiamo questa bella iniziativa da voi curata che riguarda un magazine tutto scritto in cinese sul vino italiano e dedicato proprio al mercato orientale, in particolare proprio quello della Cina. Com'è nata questa iniziativa? Sì, One Channel è una società che si occupa da qualche anno proprio di comunicazione ed export del vino italiano in Cina, in questo mercato che è uno tra i più interessanti oggi proprio per il vino. E che soprattutto quest'anno e per l'anno prossimo si prevede essere un mercato estremamente interessante proprio per l'Italia del vino. Abbiamo pensato, creando questo magazine, a come riuscire a raggiungere i nostri potenziali clienti, buyer e importatori cinesi con uno strumento differente. Quindi non riuscendo a raggiungerli in questo periodo fisicamente attraverso le fiere o la modalità tradizionali di contatto con i clienti. Allora abbiamo pensato di creare un magazine, che è un magazine stampato, cartaceo, che viene distribuito gratuitamente in Cina a un panel di importatori, distributori, buyer cinesi in diverse province della Cina. La cosa bella e importante di questo progetto è che oltre a raccontare il vino italiano, quindi ad avere una funzione di informazione e formazione sul nostro paese, sulle nostre produzioni, sulle nostre ricchezze anche territoriali. Ad esempio il primo numero l'abbiamo dedicato all'Abruzzo, proprio per appartenenza, descrivendo non solo il Montepulciano, le denominazioni, quindi un viaggio attraverso la nostra storicità, ma anche collocando l'Abruzzo in Italia. Quindi descrivendolo anche proprio come regione con le unicità che ha, anche perché la grande forza dell'Italia è proprio la grande differenza e varietà di vitigni che vanno comunicati, vanno raccontati. Quindi non esistono solamente i grandi vini blasonati, le grandi firme del vino che sono le più conosciute, ma il nostro scopo è quello di andare a raccontare e a comunicare tutte le nostre varietà e tutte le nostre produzioni vinicole italiane. La cosa che abbiamo voluto fare è stata creare anche un collegamento con il web, cioè dare la possibilità ai consumatori cinesi di poter contattare direttamente sia le aziende, sia eventualmente acquistare i prodotti tramite e-commerce o tramite un rappresentante cinese in Cina, attraverso quello che è lo strumento più utilizzato che è il QR code, che noi ancora non utilizziamo tanto, anche se in questo periodo abbiamo iniziato anche noi ad usarlo. Per loro è fondamentale perché collega la carta stampata con il web. Quindi per loro avere ad esempio una selezione di vini italiani sul magazine, poter andare ad approfondire poi notizie sulla cantina, poter contattare direttamente un rappresentante cinese oppure poter acquistare direttamente il vino su una piattaforma e-commerce, è sicuramente per loro un modo per raggiungerci, per conoscerci meglio e per approfondire proprio la conoscenza dell'Italia e dei sei vini. Noi ci auguriamo che con questo progetto riusciremo a sostenere, ad aiutare ancora di più le cantine italiane ad entrare in uno dei mercati più interessanti, più importanti per l'export del vino.